Torna a circolare il traffico pesante sulla rete stradale delle Marche, imbiancata dalla neve e stretta nella morsa del gelo in questi giorni. Il prefetto di Macerata ha disposto la riapertura completa alla circolazione di autocarri e autoarticolati dalle ore 9 di questa mattina su tutta la rete stradale ed autostradale. Analogo provvedimento è stato adottato anche dalla prefettura di Ancona. E intanto al porto di Ancona si è concluso il deflusso controllato dei mezzi pesanti verso la grande viabilità. L'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale ha annullato l'ordinanza sulle limitazioni alla circolazione nell'area del porto storico. I mezzi pesanti sono stati fatti defluire dai parcheggi portuali, in gruppi da 10-15 e accompagnati verso l'autostrada A14, in staffette guidate da vigili urbani e polizia stradale. Nelle aree polmone sostavano oltre 300 mezzi pesanti. Ieri era stata consentita la partenza dei tirre con merce deperibili a porto e delle auto attrezzate per la neve. Tre i traghetti in arrivo oggi. È già arrivata la Cruisi Olimpia, 100 tirre caricati. Nel pomeriggio la Superfast 11 110 tir. Nella notte arriverà invece la Hellenic Spirit con 25 tir. Al porto d'Orico rimane attivo il piano neve.